10 anni fa, 12 anni fa, mi chiamavano il vangal dei poveri, squadra che giocava. Poi ultimamente, anche per un rapporto di conoscenza diretta, conosco molto bene Murigno, in quanto anche al master di Coverciano siamo stati ad Appiano Gentile, quindi io ero quello lì che avevo più rapporti. Ecco, per carattere, per una questione di carattere, mi associano più a Murigno. Per gestione di fase di proprietà tecnico-tattica, più a vangal. Grazie.